in un baleno al castello di san giorgio in provincia d'asti il giornalista occhiena si ha giudicato il raviolo d'oro massimo riconoscimento di bravura colinaria per un professionista della penna sgominando gli altri rappresentanti della stampa piemontese lombarda ed emiliana nonostante l'aiuto di alcune signorine di buona famiglia scelte accuratamente fra quelle superstiti ragazze della buona borghesia piemontese avvezza ad avere più fiducia nella gola che nel cuore dei probabili mariti il bravo occhiena ha trionfatto con un piatto da lui stesso battezzato pericolo giallo un letale risottino allo zafferano ravvivata dai febbrili ritmi dell'orchestra la bella festa ha raggiunto un'alta temperatura che ha finito per contagiare tutti tranne la giuria reprattaria ad ogni influenza grazie a tutti